weyla eccoci qua con più che consueto direi che potremmo fare questa rubrica ogni volta al fine settimana il nostro altcoin update facciamo una rubrica ogni fine settimana in cui magari con i mercati fermi e ormai abbiamo capito che al fine settimana bitcoin ed ethereum ormai sono istituzionali sono fermi cioè fermissimi no perché in realtà avevo anche segnalato un long qua però vedete siamo piatti bisogna aspettare i volumi istituzionali ormai non c'è niente da fare c'era già così prima degli etf perché in effetti facevamo la ciclica sui semi da da sempre praticamente adesso che ci sono anche gli etf figurati cioè quando c'è fin settimana bitcoin è piatto ma il resto del mercato no adesso il mercato no infatti abbiamo avuto una bellissima accelerazione guardate qua questo è giornaliero quindi queste sono le candele che sono state anche le fine settimana qui tra l'altro anche un mega pescone perché eravamo andati in eccesso quindi facciamo questa magari otteniamo questa rubrica per il fine settimana con le altcoin update anche perché ne abbiamo una paccata infinita una pagata infinita io ve le segnalo sempre su telegram adesso magari vi farò un'altra segnalazione per quelle di questa settimana che però io volevo con tranquillità magari fare dei rientri però sono perdite tutte missili alla chiusura del venerdì e quindi ho comprato quelle che sono riuscito non avevo tempo di fare una lista fatta bene perché tanto salivano tutte salivano tutte del 200% il 100% bisognava fare la solita tecnica no fai 100% il vendi metà le cerchi un'altra perché tanto è tutta una rotazione di capitale no questo tutte le altcoin parte una la gente in cassa magari ritorna un po giù tu ne compri un'altra che deve ancora partire ti compri un'altra che deve ancora partire tutto così e perché comunque i soldi arrivano e ci sono ci stanno arrivando a pacchi però non è che sono infiniti per farle partire tutte quindi quando parte una poi magari torna indietro parte l'altra torna indietro parte l'altra allora per questo che ogni volta si fa vendo la metà e ne compro un'altra finché la giostra gira e quando la giostra poi gira qua sotto è dopo sarebbe da vendere tutto o comunque magari hai venduto metà eccetera e dici vabbè metà me le tengo e aspetto ma il ritracciamento non è così grave l'altra metà è cash che appena c'è un bel ritracciamento rientro questa sostanza comunque qui siamo già arrivati a stiamo arrivando al punto cruciale vedete cerchiato che è cerchiato da tempo di tutta la total chiaramente poi bisogna andare nel particolare cercarne ad uno ad uno che arrivino anche loro a questo punto se un alcoin ha magari la struttura grafica questa qui che avevamo visto che insomma è dal 2020 che esiste eccetera questa struttura grafica qua e non è ancora arrivata in questa struttura grafica qui vuol dire che può ancora avere margine no invece chi è già arrivato qui ad esempio solana è arrivata qui da secoli non è che ha fatto granché cioè comprare solana non aveva senso no avete che questa è quella non ho ecco questo è il mio la mia sezione con più al coin prendiamo solana cosa sta facendo non lo so neanche lo sta facendo in realtà perché non c'è è arrivato già subito doveva arrivare poi non l'ho più seguita sì facendo un massimo ma era già arrivato da queste parti già da mesi ancora sta salendo ma ci fai per due cioè da questo ritracciamento già magari non dal botto dici io lo ricompravo qui vabbè 40 per cento l'ha fatto lo stesso dal top top però non ha ancora fatto niente 9 perché ormai aveva già esagerato all'inizio quindi questo qui appunto cosa la compri a fare tra parentesi adesso magari fa un'altra accelerazione per carità però c'è di meglio no quindi tornando all'analisi qua vediamo come allora prima veniamo comunque un attimo bitcoin allora bitcoin comunque è fortissimo cioè non c'è niente da fare qui continua a essere comunque molto bullis ovviamente bisognerà vedere come aprono i mercati la settimana prossima però ai mercati orate il nasdaq di nuovo ha un altro candelone che va in oltre mai questo è l'ultimo 3 che ho segnalato sul telegram e ricordo il telegram per chi vuole entrare gratis un mese e poi valuta lui vedete questi sono i massimi 2021 siamo già belli estesi sopra i massimi quindi ormai i massimi questi non hanno più valenti nel senso ormai sono passati magari faremo un retest c'è un brutto crash va bene può essere bisogna sempre per stare allerta però anche lo standard pur vedete come li ha rotti no poi se prendiamo anche tanti indici europei quello che è quasi tutti li hanno rotti il dax ha rotto i massimi ai massimi del 2021 prendiamo che cavolo adesso io gli asiatici no sono ancora molto indietro qui a qui perché non ho qui la lista dell'altro è comunque quasi tutti gli indici europei hanno rotto i massimi cioè nel senso questo quello è lo spagnolo un po meno è un po più deboluccio ma gli manca ancora qualcosa però nei fatti tanti mercati hanno già rotto i massimi il nikkei è mi dico addirittura sfiorato i massimi quelli storicissimi che non vedeva dagli anni dal 1990 cioè anche l'italiano è in rotta per quei massimi che non vedeva dalla bolla della dot com quindi il fatto che adesso è ma bitcoin è steso troppo fuori e bla 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 non è detto perché tutti gli altri mercati li hanno già rotto i massimi noi siamo anche indietro in realtà quindi il fatto che possa anche senza stare lì e tanto a perdere tempo andare subito a rompere i massimi ci sta ci sta poi quando rompe i massimi parte oltretutto ancora di più l'alt season perché noi qui adesso questo è più che facciamo più l'alt season allora quindi per l'alt season noi andiamo a vedere andiamo a vedere qui come siamo messi con la dominance chiamiamola questa è una sorta di dominance scarabocchiattissima cosa ho fatto tanto faccio gli scarabocchi e poi mi dimentico di cancellare ok è vedete che io non lo so come dicevo nell'ultimo video c'è un po di ironia no che dicevano eh ma l'alt season non so se arriva magari non arriva non lo so bisogna aspettare in realtà l'alt season se uno vuole proprio essere puntiglioso e c'è già da almeno questo top qua perché vedete qui tutti i massimi non dice ma non lo so magari vittorio rompe ancora rialzo eccetera ma da qui è già al season no metti che uno aspettava ancora un po da qui è già al season perché dopo un terzo massimo che non ti rompe rialzo ti fa un candelaccio rosso da qui iniziava già l'alt season dov'è che eravamo qua eravamo a dicembre e comunque magari uno era in ritardo lo stesso perché già da qui vedete da qui praticamente era partita l'inizio del tra virgolette al season perché bitcoin non faceva più massimi nei confronti delle coin no però vabbè uno arrivava anche in ritardo ci stava eh per carità perché tanto tutto quel bear market lì perché poteva anche aspettare c'erano tante di occasioni fino a fino a oggi adesso non ci sono quasi più vedete da qui c'era l'alt season quindi chi dice che non so forse boom 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 l'alt season c'è già da mesi no punto è quanto potente sarà adesso qui guardate questa candela che bella cioè qui ha invertito completamente il trend di questo trimestrale che probabilmente era partito qui ed era rialzista fino a prova contraria qui probabilmente ha fatto il suo top di trimestrale inverso e questo probabilmente questo probabilmente adesso vediamo perché magari se adesso riparte va verso i massimi magari c'è di nuovo un'altra potenza di bitcoin però se non rompe questo massimo qui e qui abbiamo anche rotto questo adesso è probabile che vada giù impetuosamente la dominance comunque questo si vedrà perché in effetti se poi vai l'ottore di massimi magari un ultimo spike te lo può ancora fare eh te lo può fare tipo non so una roba del genere spikeone e poi va giù perché qui magari ti fa bitcoin 150k capito diretto così tan però nei fatti adesso noi vediamo sul particolare siamo veramente in mega alt season sostanzialmente perché adesso che abbiamo rotto anche questa se adesso questo cos'è aspetta mettiamo tutti i puntini questo però cosa mi fa pensare no mi fa pensare che probabilmente bitcoin farà un po' fatica a rompere i massimi mi fa pensare perché se abbiamo comunque invertito questo trend di un trimestrale no sulla forza che ha le bitcoin diciamo a 66 giorni no vedete quindi è probabile che adesso anche questa pesca fa continui a fare anche così almeno se non addirittura andare sotto i nuovi minimi se bitcoin deve rompere violentemente a rialzo no e andare in all time high ha bisogno della liquidità di tutti anche delle altcoin cioè non c'è un bitcoin che rompe i massimi in quel momento lì fa una candela da più 10k 20k e le altcoin vanno meglio cioè ed è difficilissimo quasi impossibile perché servono capitali e attenzione e quindi tutti magari si mettono in pausa sulle altcoin spostano i capitali su bitcoin per spingerlo quindi questo mi fa pensare che non dico che non lo superiamo in questo periodo però è probabile che magari stia un mesetto in riposo mettiamola così quindi questo mi fa pensare questo e poi qui siamo nel fine settimana fine settimana può essere tutto annullato con un'altra candela domani che partono i mercati veri e poi diventa così ok questo mi fa pensare questo però che magari non dico che facciamo chissà che ma fa un riposo di un mese quello che poi abbiamo già detto nei video precedenti no che magari adesso ti fa primo settimanale secondo settimanale chiude il terzo settimanale e il quarto rimane un po' impallato perché comunque facciamo la chiusura del mezzo trimestrale e poi parte e quindi comunque ci vorrà un mesetto forse anche quasi per fare questa roba e si allineerebbe con questa situazione qua che adesso per un mesetto gli altcoin saranno più forti di bitcoin perché se il bitcoin la terra lizza senza fare grandi correzioni lassù è buonanotte gli altcoin hanno tutte tutte moni lo stanno già facendo ok quindi comunque siamo che chi dice che non è in alt season è praticamente fuori di testa mettiamola così perché comunque adesso siamo comunque arrivati ai primi livelli però cos'è qual è il punto qui questo è l'indicatore generale di tutte le altcoin se un ripeto se un altcoin non è ancora arrivata qui ma è ancora qua sotto magari ha ancora tempo per arrivare lassù se un altcoin è già arrivata qui e non copratela no cioè invece io so come funziona una nel coin qualsiasi fatto più 100% tutti vroom a comprare quando tutti quelli che sono un po' svegli magari vendono non comprano poi qui anche come tempistiche infatti cos'è che abbiamo questo bel disegnetto che poi ci ha dato anche qua l'indicazione secca del mezzo trimestrale inverso quindi qui proprio se ormai la ciclica dell'alconia è precisissima è una roba al giorno molto molto più precisa di quella di bitcoin che è un po' sballato ultimamente guardate che precisione trimestrale secco 96 giorni poi anche qui precisione anche sul mezzo che il mezzo ogni tanto è fastidioso 49 giorni ok cioè siamo lì in linea perfetti quindi se questo è il mezzo abbiamo già rotto il massimo eccetera andiamo almeno a 40 giorni minimo che tra l'altro qui era il target siamo già arrivati già adesso quindi queste spingono ancora spingono ancora almeno per un mese vedete 30 giorni spingono ancora per quanto da qui a qui 30 giorni vedete come si allinea poi anche questa view della dominas che loro devono spingono ancora per 30 giorni e la dominas mi si è bloccato tutto bello si è bloccato tutto vabbè magari andiamo a vedere i nostri bei progetti mentre tradingview si riprende forse perché avevo un pn non so vediamo niente è partito è partito tradingview proprio mentre faccio l'analisi fantastico adesso vediamo se devo fare pausa o no diciamo così lo chiudo e lo riapro no è ripartito qua forse ok non devo chiudere prima non mi va di fare gli editing cioè adesso devo stare lì 3 a fare editing video adesso ho da fare quindi vi beccate questi due minuti di nullità va bene ok quindi si allinea con i 30 giorni che avevo detto praticamente vedete qui non è aggiornato perché io sull'alcone vado più nell'altro e non si sa perché si era bloccato vabbè ok no adesso ho ripreso anche qui ok quindi si allinea con qui 30 giorni che teoricamente possiamo ancora dobbiamo ancora salire e si allinea con qui con la dominance che abbiamo appunto dalla partenza del trimestrale siamo a 66 giorni circa abbiamo ancora potenziali 30 giorni in cui può scendere la dominance no e quindi si allinea sta cosa l'unica cosa che non si allinea è che allora significa forse bitcoin non rompe subito i massimi sta 30 giorni di riposo che questa cosa che del 30 giorni di riposo ripetiamo tutto si allinea col fatto che abbiamo fatto primo settimanale secondo settimanale terzo settimanale il quarto magari non ce la fa e quindi andiamo a impallarci un po' per il mezzo trimestrale il mezzo trimestrale che chiude appunto da queste parti qui vedete 48 giorni 45 e quindi quando chiude il mezzo trimestrale magari lui riparte piano piano gli alcoli sono ancora forti e poi bisogna trovare tutta la forza immensa di tutte le liquidità di tutte le coine di ethereum dei capitali istituzionali eccetera per fare la grande rottura questa è la view che io vedo ok sulla usdt dominance è un colabrodo continua a crollare io qui avevo detto che che molto probabilmente andava in crollo perché qui aveva già fatto praticamente il test di questi massimi e aveva già squisato dopo aver squisato qui praticamente non ha rotto niente e è ritornata in questa zona qua quindi questa zona qua non ha tenuto anzi ha fatto proprio un retest dal basso giù potente adesso i prossimi target sono sempre più bassi come minimo è questo diciamo da cui potrebbe reagire ma poi può anche tornare proprio in questi minimi qua e però capite che qui l'escursione è tanta cioè qui siamo già in ultimai va bene è in più bisogna vedere perché poi comunque è una dominance bisogna vedere anche quanti capitali continuano anche a inserire gli usdt nuovi che comunque magari alzano un filo la dominance ma nei fatti non stanno uscendo capitali ma ne stanno entrando non è proprio preciso che dice esce vuol dire che sale e scende cioè sale vuol dire che esce cioè insomma bisogna vedere perché è una dominance nel senso che se arrivano 100 miliardi nuovi di usdt magari si alza un attimo la dominance ma arrivano da fuori non erano dentro il mercato quindi poi adesso andiamo nella parte migliore allora io qui volevo farvi vedere i miei diciamo 4 diciamo 5 progetti fondamentali che io seguirò per diciamo almeno 2,24,25 finché avranno prezzi bassi eccetera ok per uno che farò magari un video stand alone che magari chi ovviamente mi conosce sa bellissimissimo qual è è il nostro bellissimo CHP quello che praticamente sono dentro dal 2017 e io mi ero accumulato qui non ci sono perché era una volta su un exchange su Kucoin poi l'hanno dell'istata perché sono furbi come delle faine si sono presi ripresi tutta la capitalizzazione no adesso quelli che farò un video stand alone qua quelli dei capi del progetto non è un progetto se forse facciamo questo facciamo quello è una roba che funziona da anni è una poker room che funziona da anni va bene qui c'è questo trend lateral ribassista da tempo dopo questi top che tra l'altro top è che erano in pieno bear market no? un mercato sanissimo no? e qui è perché hanno cambiato un po' di regolette che vi farò sapere ma nei fatti la puzza è che si stiano ricomparando tutte le CHP per dopo manipolare il mercato a rialzo anche perché non è una roba fatta a caso ma c'è tutto un senso che poi magari vi spiegherò quindi questo ovviamente è sempre il mio primo progetto che seguo da sempre secondo progetto che seguo da sempre era sempre no questo è dal 2021 sono sempre stato bullish su questo nel 2021 quando ancora non si sapeva neanche cosa fosse un visore no? e vabbè apriamo il sito questo è il secondo aspettate è un attimo che la finestra ho tolto il monitor quindi la parte alta della finestra mi è andata sull'altro monitor ecco e adesso mi si rallenta il computer allora il nostro bellissimo eccolo qua tac OVR questo è secondo me il progetto allora ricordiamoci una cosa io non sono qui a fare lo youtuber i progetti pim pum pam ok? perché il progetto è il progetto poi il trading è il trading l'investimento è il investimento cioè ci sono tante cose nel mondo che magari sono wow hanno l'effetto wow tipo chi è che fa la pizza più buona d'Italia? chi è che fa il panino più buono d'Italia? e dice eh ma quelli fanno i panini più buoni in assoluto quindi devono diventare ricchi miliardari sfondati sarà il panino che farà capito? il successo clamoroso eccetera eccetera poi nei fatti chi è che fa più soldi in quel settore? McDonald's no va bene cioè che fa il panino buttato là eh con l'hamburger eh non è che faccia schifo una schifezza del genere me la mangio anch'io una volta ogni tanto però bisogna capirla sta cosa cioè un conto è la teoria eccetera un conto poi è come tu lavori in tutti gli altri ambiti che sono all'infuori proprio del prodotto stesso e come tanti magari personal trainer bravi eccetera che dicono io sono sono un mister olimpia no? e quindi vado a aprirmi la palestra e quindi siccome sono mister olimpia so tutto di quel settore diventerò ricco sfondato poi sono completamente incapace a gestire una palestra che metti cicciopanzo fior d'aranzo capito? lo metti lì gli dici mi gestisci la palestra e lui magari lo sa perché è un imprenditore sa come fare i conti sa come stare attento alle attrezzature sa come stare attento alla bolletta del gas della luce sa come fare il marketing e fa molti più soldi in quella palestra il cicciopanzo il cicciopanzo che il culturista bisogna stare attenti a sta cosa bisogna stare attenti perché non è detto che uno sia competente in una cosa in un settore quindi è capace a fare l'imprenditore perché sono cose diverse stessa roba qui questi sono stati bravissimi qui hanno costruito le land cioè ci sono un sacco di OVR che vengono con le land che vengono comprate da anni vogliono costruire questa specie di commistione appunto fra realtà aumentata e virtuale con le land fisiche avevano fatto anche quella specie di pokemon go ancora anni fa in cui era OVR go cioè tu andavi in giro a cercare per la città gli OVR i token e non il pokemon march ho capito che non te ne fai un cazzo ok ho trovato Pikachu e adesso non te ne facevi un cazzo di quella roba là cioè è una roba per bambini lì ti cercavi il token e poi te lo vendevi prendevi i soldi va bene era un po' diverso cioè io vado a cercare qualcosa perché c'è un motivo non perché c'è l'animaletto del cazzo che non me ne faccio niente va bene e quindi che io avevo anche provato io avevo cercato anche dei token in giro ma li trovavi anche nella stanza all'inizio dopo ovviamente diventavano sempre meno adesso sono sempre meno perché anche qui c'è deflazione perché compri le land bruciano gli OVR eccetera eccetera poi avevano anche c'è anche nell'app che puoi andare non so a vedere la cappella Sistina in 3D tutte quelle robe lì sono tutte robe che già nel 2021 si snasava odore di cioè figata adesso che ci sono MetaQuest Apple Vision magari oggi è ancora cruda la cosa metti un anno no che magari venivano le seconde versioni magari anche più per il pubblico ma cioè immaginate cosa fa sta roba il botto fa sta roba sta roba però poi non è detto che lo faccio OVR quindi attenzione però io comunque ci io ci sarà uno di quei progetti che starò molto 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 attento poi ovviamente abbiamo parlato di roba seria come non si può parlare del secondo progetto in cui starò molto dietro tadan guardate che si apre eccolo i miei doggy questi sono gli NFT di doggy eh sì ci si vogliono un bel po' di doggy per comprarsi ogni NFT sono su BakerSwap anche questo è stato da tanto tempo infatti vedete guarda ho guadagnato 10 bake perché ho messo in stake i miei due NFT di doggy oh per carità è una cagata c'è il gamification ah sì ecco perché avevo messo il WPN perché se no non era accessibile nella mia regione perché sono in America e l'America fa così poi ti metti il WPN vai vabbè comunque al di là di questo ci sono gli NFT di doggy vai su BakerSwap oppure sono anche su un exchange i doggy vediamo subito qui è più roba grafica speculativa chiaramente più roba grafica speculativa non tanto l'NFT il gran progetto però il progetto in teoria c'è nel senso che tu hai bisogno dei doggy per comprare gli NFT dei doggy che sono la stessa roba dei cryptopunks praticamente stessi numeri eccetera stessa varietà stessi avete visto come sono io mi sono comprato quello con il cappellino e quello con l'occhiare da sole no ecco e quando tu compri un doggy bruciano bruciano i doggy va bene quindi c'è sta deflazione per sto motivo poi c'è il suo fratello che si chiama Bark c'è doggy e bark Bark invece ti compri l'nft col cagnolino che abbaia c'è solo un audice di wow no una roba stupida e il giochino si chiama doggy bark tutti e due vai col giochino in giro abbaia e pinci dei ponti una cagata colossale ovviamente cioè per chi è sano di mente una cagata colossale ma noi non ce ne frega se è una cagata colossale non ce ne frega che faccia farci i soldi e qui graficamente la situazione finché sta così secondo me è è pazzesca perché avete visto le canine che sono partite ultimamente facciamo un giro sulle canine cosa è successo ultimamente prima di vedere doggy guardate cosa ha fatto Shiba Shiba abbiamo scaricato il 50% guardate che candela che ha fatto diretta boom quindi è il tempo delle canine vedete ho scaricato già la metà anche doggy stesso il re di tutte le canine è partito eccolo qua boom anche qua questo sarà mi sa che ho scaricato anche qua un 100% forse l'avevo presa un po' prima qua sotto l'avevo presa perché mi sembra aver scaricato un 100% da pelo grosso ho scaricato metà poi anche tutte le canine simil canine quindi abbiamo un bel flocchi flocchi ha fatto il disastro qui io questa questa roba l'avevo presa di giro precedente sto giro non sono riuscito a fare che roba dove cazzo sta andando sto grafico merda perché non l'avevo presa di giro precedente poi era troppo alta quando l'ho vista ho detto vabbè prendiamo altre canine guarda che roba quindi le canine sono partite doggy è una canina è anche un progetto ragazzi l'importanza ha gli NFT quelle minchiate e non è neanche listato negli altri scendi se noi andiamo a vedere qua graficamente aveva già fatto un mega squeeze di questa super area di bottone infinita vedete super mega squeeze 750% diretto qui avevo venduto un po' le avevo da una vita sti doggy da una vita e mezza ma adesso vi sto ricomprando perché comunque vedete squisone però sta tenendo praticamente come se fosse una sorta di retest qua e sta ripartendo cioè adesso andiamo a vedere i top che c'erano una volta allora già a questo livello qui da dove siamo adesso circa sarebbe un 400% no da qui dove siamo adesso a questo livello qui sono 970% diciamo 1000% e non sono dei livelli questi che non sono i top top veri perché i top top veri sono addirittura quassù che sono assurdi ma sono quassù sono quassù i top cioè che arrivi lassù boh però cioè è possibile è possibile sono canine hanno un progetto bruci perché poi il prezzo anche in sé sono fatti apposta per carità è sempre porcheria però sono fatti apposta che bruci il token se ci sono meno token per forza aumentano di prezzo se c'è interesse perché è una robaccia ovviamente quindi per assurdo ti fai il calcolo dal bottom al top no prendi dal bottom vabbè da dove siamo adesso comunque fattiamo dal bottom quanto assurdo potrebbe essere da questo bottom qui se addirittura arriva fin lassù cioè che sarebbe una roba clamorosa cioè se prendiamo lo spike è clamoroso perché fai un 35.000% brava che non ha senso però ricordate che questa roba è speculazione pura può anche succedere anche di più eh vi dicevo io 44.000% assurdo veramente assurdo però può essere può essere perché adesso con questo segnale qua che comunque c'è interesse in più c'è anche una roba assurda nonostante sia un progetto senza senso cioè guardate qua i volumi cioè non si guarda ci sono i volumi perché se io prendo quest'area qua vedete vengono fuori dei volumi quindi ci sono volumi ma se io prendo l'area qua sotto guardate che roba cioè non si vedono neanche i volumi sopra non esistono in confronto a tutti i volumi che hanno messo qua sotto pazzesco quindi c'è veramente qualcosa qualcuno secondo me che ha comprato violentemente sta roba infatti qui è stata ferma per una vita e poi boh partita cioè nel senso ragazzi non lo so cioè io adesso io tanto me le compro tutte però se io devo puntare anche qui a qualcosa e dico sai cosa questa finchè sta bassa ovviamente è la mia al coin scommessa no e io farò un pack continuo su questa anche roba tipo 10 dollari a una settimana e non è che devi impetterci 10 miliardi 100 dollari quello che uno ognuno quello che ha ok ma io sinceramente la guarderei quindi OVR Doggy e CHP Doggy e poi vabbè andiamo sul serio ovviamente non c'è bisogno di presentarle però ovviamente poi andrei su Optimism e Arbitrum perché io sono veramente bullish sui layer 2 di Ethereum ma tanto bullish queste poi sono quelle che sono nate da poco ma non da troppo poco cioè ormai sono fuori da più di un anno ma non hanno fatto la bullion precedente e sono delle classiche che non hanno niente sopra la testa non hanno resistenza non hanno niente e più la DeFi adesso come è strutturata è molto probabile che inizi a girare tutto lì tutto tutto cioè praticamente se uno vuole vedere cos'era Solana AVAX Phantom nel 2021 può darsi che adesso si pangino tutto il mercato un vario Arbitrum e Optimism assolutamente sì cioè possono fare addirittura un 200x cioè ma un 100x adesso 200x ovviamente no andiamo un attimo su CoinMarketCap facciamo delle proiezioni dopo aver visto il nostro OVR vabbè questa era CoinPoker che avevo già segnato qua CoinPoker da vedere anche che vabbè qui la MarketCap è veramente miserrima 16 milioni ma guardate che è una roba che lavora e quando c'era il vabbè qui faremo un video da solo più avanti ora vediamo un attimo va tutto un po' lento non so perché sembra qualche programmino siamo qua allora vediamo dove dove c'è direttamente il nostro Optimism è Arbitrum come capitalizzazione allora innanzitutto Polygon che è un ottimo punto di riferimento vale 10 miliardi che è il nostro punto di riferimento perché diciamo che è le IR più o meno 2 anche se non è proprio 2 Optimism siamo a 4 quindi già abbiamo la potenzialità sicura di prendere meno quello che ho Matic oggi sostanzialmente perché poi Matic magari salirà ancora però 10 miliardi secondo me sono assicurati e Arbitrum eccolo qua Arbitrum ancora di più perché vale ancora meno di Optimism e tra l'altro secondo me Arbitrum è anche un po' meglio io ho provato io ho provato entrambi anzi mi sono preso proprio l'air drop su 2 chain ancora ai tempi perché io lavoravo già nel 2021 le avevo già provate e tutto e secondo me è anche molto meglio Arbitrum sicuramente poi sarà quello che sarà 2 miliardi di capitalizzazione calcoliamo invece quello che è Solana oggi per dire oppure un Avalanche oggi no Avalanche 16 miliardi va bene Solana 57 qual era stato poi il top ad esempio di un Solana il top della capitalizzazione Solana sarà stato un per 2 circa quindi 100 miliardi addirittura pensate e in più siamo in una fase di mercato che può essere possono fare sicuramente numeri maggiori del 2021 visto che bitcoin è già in volta e mai quindi se andiamo su questa view che poi può essere tutto bisogna anche in strada siccome è un mercato veloce aggiornarsi mese per mese ma se la view è questa un optimist che va da ad esempio che faccia un 20 per per esempio va da una capitalizzazione di 80 miliardi perché no perché no un arbitrum che faccia da 2 miliardi di capitalizzazione ti possa fare addirittura un 40 per 50 per va a 100 miliardi perché no assolutamente possono farlo anche altre quello è il senso perché perché queste sì e le altre no anche le altre saliranno ma qui ci sono dei motivi fondamentali che sono la base della DeFi la DeFi adesso immaginate se poi arrivano gli ETF spot su Ethereum immaginate che roba arrivano gli ETF spot su Ethereum insieme a capitali istituzionali infiniti sulla DeFi arriviamo a cifre da migliaia di miliardi dentro e dov'è che vanno a girare soprattutto sui layer 2 principali di Ethereum perché si sa che Ethereum non può ottenere tutto ed è costosa ma quali sono quelli più sicuri e più vicini sono Arbitrum e Optimist che tra l'altro paghi le fees in Ethereum ecco questo è il problema che pagando le fees ovviamente in Ethereum uno vuole neanche da chiedersi ma allora il token Arbitrum e Optimist cosa me ne faccio questo è il grave problema ok va bene questo è il grande problema perché uno dice allora cosa me ne faccio del token forse dovrà diventarsi qualcosa su questa storia perché se no vabbè c'è sempre il nostro Polygon ovviamente però hai già 10 miliardi di capitalizzazione e però c'ha il token proprietario e allora anche qui uno dice sì però il token però lo usi eccetera eccetera però come si ben sa di solito sono sempre le nuove quelle che super performano non le vecchie quelle che hanno già dato in passato poi rischiano nella burra successiva di rimanere indietro va bene quindi bisogna sempre puntare sul nuovo se si vuole fare grandi grandi percentuali perché se si punta sul vecchio magari hai fatto anche una scelta giusta per dire anche se Cardano era la vecchia ha fatto bene anche nella burra successiva ma è stato un caso idem per Doge ma Doge era meme coin no è stato un caso perché poi se andavi a prendere nelle vecchie che cosa facevano schifo facevano cioè prendi il grafico di litecoin che cosa facevi un cazzo facevi è sempre lassù più o meno c'è sempre una capitalizzazione alta ma lo è era seconda ai tempi che furono e non ha fatto più niente cioè se vuoi fare veramente il botto cerchi qualcosa che è più innovativo e nuovo non vai sul vecchio quindi direi che facciamo un giro un po' così veloce sulle ultime che ho preso allora siccome qui andava tutto su veloce ho dovuto prendere al volo delle cose allora Hive è ancora messa bene vedete ha fatto la prima candela sta rompendo quindi Hive assolutamente è ancora messa bene ancora da prendere facciamo un giro veloce poi luna stava partendo questa è luna proprio luna qui vedete ha fatto il retest poi questa è ancora messa relativamente bene vedete anche questa non è messa ancora male sono ancora al botto ormai bisogna cercare quelle che sono ancora messe male cioè nel senso gala partita ormai è partita gala l'avevo già segnalata poi avevamo anche sì poi avevamo cosa è questa questa ormai è partita partita baby dragon che mi hanno segnalato ma mi sa che è partita anche lei troppo tardi anche questa porcheria però era qui però ormai è partita perché è partito tutto quindi è difficile adesso trovare tante occasioni questa sta rompendo praticamente questa sorta di mega rounding cap and end come volete dire è un po' alta però perché poi qui c'è comunque dei livelli che rompono quindi ormai sono una ecco questa è ancora buona meme min brc via quindi questa è ancora buona se uno vuole questa ci sta non c'è quasi più niente bri che questa è sempre su bakery swap l'ho presa al volo è sempre della stessa risma dei doghi bark bri quelle robe lì bake che comunque fa parte appunto è il re di quelle robe su bakery swap è ancora decente ancora buona qui ovviamente guardate anche questa che squeeze improvviso che fece boom 600% dopo che è stata dimenticata da tutti adesso sta cambiando proprio la storia perché anche bake stessa i massimi guardate quanto distanti sono da adesso sono a 1900% cioè pazzesco e poi ricordiamoci una cosa bake è la seconda diciamo dopo cake della bsc bsc comunque è la bsc cioè nel senso è spinta comunque dal colosso binance quindi quando sarà il momento di spingere magari si vede e si sente questa è ancora buona sta facendo anche questa una sorta di mega rounding va a rottura e va su e qui oltretutto anche questa guardate fino ai livelli della total che vi dicevo la total in proporzione è circa almeno qua e lei è ancora qua poi bisogna vedere perché certe magari sono fallite non ci arriveranno mai più a certi livelli però già sono arrivati qua al 500% questo è il token di wirex sì che non ci investirei sinceramente anzi qui magari uno può anche vendere se aveva le wirex e poi si vedrà e gari anche questa è ancora buona perché vedete è proprio nella fase di bottom se ti rompe questa fase di bottom qua vedete che roba boom ti può esplodere fino alla chiusura di tutta questa inefficienza di sta candela assurda può andarti direttamente qui a 1800% voglia questa non l'ho neanche presa perché su okx non c'ho neanche okx devo cercarla anzi anzi cerchiamo insieme perché è troppo bella questa la voglio cercare anch'io vediamo perché voglio fare un altro exchange vale mille exchange vediamo gari dove cavolo la trovo sta gari magari la trovo anche su qualche che ti fai sarà questa gari network questa mi sembra bellissima la roba cioè se esplode questa si prezzo è quello dove cavolo la trovo market orange x ma hai sentito ah su kukoi bing x non l'ho trovata su bing x ma è possibile fammi vedere che magari mi sono confuso e alla fine l'avevo presa bing x e bitkets sono i miei principali la si trova quasi tutto quindi eh si che c'è eh si che c'è e allora adesso dopo la compro gari è bellissima guarda che roba c'è questa se ti rompe questi bottom se anche arriva solo qui proprio il primo spike cioè ti fa dietro a 300 500% è pazzesca questa bellissimissima è un sogno anche questa è messa male cioè nel senso che è messa ancora giù cioè messa bene nel senso che è ancora fattibile per prendere guardate che bella anche questa htr poi certi ma sono anche secondi rientri eh poi abbiamo Phil che sta partendo adesso eh in corsa volendo in corsa si può ancora prendere perché adesso si rompe questa zona di bottom arriva direttamente qua però uno sarebbe un po' in ritardo eh vedi arriva direttamente qua diciamo che qui questo è un po' in corsa a rottura però un 100% ce lo faceva magari anche adesso se uno vuole allora se non mi fanno diretto un 100% io di solito comunque anche se magari sono di tardo la prendo se vedo che c'è già il target vicino al 100% no se invece non c'è neanche un 50% adesso qui c'è da dire che comunque questo è solo l'inizio può arrivare direttamente ad esempio qua ti fa ancora un 100% e allora vendi per 2 eccetera tipo un Solana che abbiamo preso prima per farti il 100% devi andarti a rottura dei massimi assoluti ma neanche non lo fai quindi cosa la compro a fare non la compro o compro qualcos'altro non ha senso vabbè direi che questo video di Alcoin Update è tutto quindi adesso vado a farmi un giro e comprarmi il mio Gary qua bellissimo Gary bellissima questa una delle migliori che abbia mai visto ultimamente e quindi per questo video è tutto ci sentiamo alla prossima ciao 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 ciao